Se continua così, insomma, per chiunque è impossibile arginare questa quito, postando la partita sull'1-2 con questa qualità al servizio e questa qualità in risposta. Al servizio Camila. 0-15. Non lo lascia vedere Camila, però, l'impressione è che comunque quando è costretta a giocare la seconda sia sempre preoccupata della risposta di inizio. Però deve trovare un equilibrio. Manca il costo di giocare una prima alla 60-70%. Non lo lascia vedere Camila. Sì, non navigare in cattive acque. Un altro doppio fallo e 0-30. Non trova serenità Camila. Sesto doppio fallo. 0-40. Allora, adesso può blindare questa partita. Come fare 1-1. D'altronde, Vito sta giocando benissimo con le sue armi. Camila continua a avere un bel rapporto al servizio. E questo è chiaramente il risultato non può che essere questo. E sta vola via. Grande salvataggio di Giorgi con la lunga linea di rovescio. Salvataggio di Giorgi con la lunga linea di rovescio. Salvataggio di Giorgi. Non so se la città di Giorgi. Non so se la città di Giorgi è possibile tenere il passo di questa petra quitova. postando in questo modo la perdita